che sta esponendo il nostro Paese a una prova durissima. La necessità di contenere il contagio ci sta costringendo a misurarci con nuove abitudini di vita, con un impatto negativo sull'intero sistema produttivo che coinvolge imprese, famiglie e lavoratori. Sono giorni terribili per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi. È un dolore per la nostra comunità, che perde i più fragili, vulnerabili. È un dolore che si rinnova costantemente. Non avremmo mai pensato, in questo nostro Paese, di questi tempi, di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell'esercito cariche di barri dei nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma immagino il nostro partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza. Grazie. Applaus Permettetemi di rivolgere da quest'Aula anche un sentito ringraziamento agli sforzi straordinari, sottolineo, straordinari, di tanti medici, infermieri e di tutti coloro che in questi giorni difficili rischiano la vita per salvare quella degli altri. Nei giorni scorsi mi ha scritto Michela, un'infermiera che lavora al reparto Covid dell'ospedale di Senigallia, una lettera pubblica, molti di voi l'avranno letta. Mi ha scritto questa lunga lettera, alla quale in questi giorni di frenetici impegni non sono ancora riuscito a rispondere. Con grande dignità mi ha chiesto che gli sforzi e i rischi che si stanno assumendo lei con le colleghe e con i colleghi in questi giorni non siano dimenticati quando l'emergenza sarà finita. Ecco, Michela, lo dico a nome del Governo, ma sono sicuro che tutti i membri del Parlamento potranno ritrovarsi in questo impegno. Noi non ci dimenticheremo di voi, di queste giornate così rischiose, così stessanti. Stiamo combattendo un nemico invisibile, insidioso, che entra nelle nostre case, divide le nostre famiglie. Ci ha imposto di ridefinire persino le reazioni interpersonali. Ci fa sospettare di mani amiche. Alla fine ci ha condotto a una limitazione significativa degli spostamenti, pur di contenere il contagio, di mitigare il rischio di una diffusione incontrollata. Questa emergenza è così coinvolgente che arriva a sfidare il nostro Paese in tutte le sue componenti, in tutti i suoi gangli vitali. È una sfida ad un tempo sanitaria, economica, sociale. Ci coinvolge tutti, nessuno escluso. È un'emergenza che riguarda il settore pubblico, ma riguarda anche il settore privato. Coinvolge i rappresentanti delle istituzioni, ma anche i semplici cittadini. Il Governo, e chi vi parla in particolare, è pienamente consapevole che dalle sue scelte, da ogni decisione assunta, discendono conseguenze, oggi più che mai, di mani portata per la vita, la vita fisica, innanzitutto, dei singoli cittadini. Scelte che condizioneranno anche il futuro della nostra comunità. Siamo all'altezza del compito che il destino ci ha riservato. La storia domani ci giudicherà. Verrà il tempo dei bilanci, delle valutazioni su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Tutti avranno la possibilità di sindacare, frigido, pagatocco e animo, il lavoro svolto e trarne le conseguenze. D'altra parte, in questi giorni molti hanno riletto ed evocato anche pubblicamente le pagine sulla peste scritte da Manzoni nei Promessi Sposi. Proprio in quest'opera viene ricordato un antico proverbio, ancora oggi fortemente in auge, per cui del seno del poeson piene le fosse. Ci sarà un tempo per tutto, ma oggi è il tempo dell'azione, il tempo della responsabilità dalla quale nessuno può fuggire. La responsabilità massima compete al Governo, senz'altro. Ne siamo consapevoli. Ed è per questo che sono qui a riferire delle nostre azioni, nella sede dove operate voi, rappresentanti del popolo. Ma la responsabilità, non mi stanco di dirlo, è di tutti i cittadini, anche di voi, membri del Parlamento, perché mai, come in questa condizione di assoluta emergenza, siamo chiamati a conformare tutte le nostre azioni verso il bene comune, al quale siamo chiamati a contribuire attraverso il rispetto delle regole, di quelle prescrizioni che abbiamo indicate, con pazienza, fiducia, responsabilità. Il Governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza, approntando, ben prima di qualunque altro Paese, le misure di massima precauzione. A partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità decretasse e dichiarasse il coronavirus Emergenza Internazionale di Salute Pubblica, abbiamo adottato vari provvedimenti cautelativi, tra i quali, ne ricordo alcuni, la costituzione di una task force presso il Ministero della Salute, avvenuto il 22 gennaio, un'ordinanza del Ministero della Salute sulle misure profilattiche il 25 gennaio, il divieto di atterraggio, siamo al 27 gennaio, dei voli provenienti dalla Cina negli aeroporti nazionali, che ha prodotto un brusco calo del flusso di passeggeri direttamente provenienti dai focolai epidemici più intensi. Il 31 gennaio, all'indomani del primo episodio verificatosi a Roma, abbiamo proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale per la durata cautelativa di sei mesi, affidando alla Protezione Civile il compito di coordinare le attività di sostegno alle Regioni per fronteggiare l'emergenza. Ricordo che l'organizzazione della sanità è di completa competenza delle Regioni, mentre allo Stato spetta dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Governo ha dunque anticipato la reazione, ponendo in essere tutte le azioni di sua competenza, necessarie e utili a presidiare i beni primari della vita e della salute dei cittadini. Il significativo tasso di contagio attribuito al Covid-19, con la previsione di una diffusione incontrollata del virus, ha posto subito all'attenzione delle autorità sanitarie la realistica possibilità di un sovraccarico del sistema sanitario rispetto alla necessità di erogare cure, che con particolare riferimento alla popolazione più debole e più anziana richiedono, come ormai è noto, interventi di terapia intensiva e subintensiva con un tasso di ospedalizzazione difficilmente sostenibile dall'intero sistema sanitario nazionale. La limitazione al contagio è stata quindi da subito la scelta necessaria a consentire al sistema di adeguarsi con un piano emergenziale specifico. In questa prospettiva, i primi interventi di impatto contenimento hanno avuto l'obiettivo di isolare i casi positivi, tracciare i contatti stretti e individuare i cosiddetti focolai. Ricordo che il primo caso di paziente italiano positivo al virus è stato scoperto a Codogno il 21 febbraio. Nella medesima giornata, i contagiati sono esplosi, poco dopo a 15 persone. Pressoché contemporaneamente un altro focolaio è stato scoperto a Vau e Uganeo. Io sono stato raggiunto da queste notizie mentre ero a Bruxelles per una riunione fiume del Consiglio europeo. Appena rientrato a Roma, la sera del 21 febbraio, mi sono subito precipitato in protezione civile per avere un puntuale aggiornamento. Il giorno dopo, il 22 febbraio, ho convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri presso la protezione civile, nel corso della quale con tutti i ministri abbiamo adottato il Decreto Legge numero 6 che ha disposto misure immediate di contenimento del contagio, definendo al contempo un percorso normativo per noi del tutto nuovo, affidato allo strumento del DPCM, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito appunto di definire via via le misure ritenute più idonee a fronteggiare l'emergenza. Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 febbraio, quindi immediato, sono state isolate le prime due cosiddette zone rosse, laddove avevamo rinvenuto i focolai, riguardanti i dieci comuni dell'Odigiano e il comune di Ivoe Euganeo. Con il DPCM del 25 febbraio, qualche giorno dopo, presso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, si è intervenuto in tutti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte, sullo svolgimento delle manifestazioni sportive, sull'organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, sulla disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli istituti penitenziari, sulla regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, sulla organizzazione delle attività culturali e turistiche. Una volta verificato che la circolazione del virus superava ambiti geografici facilmente, chiaramente isolabili, la misura di contenimento geografico ha perso rilievo. Le misure di contenimento geografico hanno perso rilievo, mentre hanno assunto ancora più rilevanza quelle di distanziamento sociale, via via incrementate, con i provvedimenti che si sono succeduti dapprima nelle regioni interessate o contemporaneamente alle regioni interessate su tutto il territorio nazionale. La scelta degli interventi effettuati, vorrei ricordare, si è sempre basata su accurate valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e ha mirato a contemperare l'esigenza di incidere in maniera bilanciata tra benefici e sacrifici imposti alla vita dei cittadini. Abbiamo sperimentato, primi in Europa, un percorso normativo volto a contemperare da una parte l'esigenza per noi prioritaria di tutelare in massimo grado il bene primario della salute dei cittadini e dall'altra la necessità di assicurare adeguati presidi democratici. Per la prima volta, e parlo dalla fine del secondo conflitto mondiale, siamo stati costretti a limitare alcune libertà fondamentali garantite della Costituzione, in particolare la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione nelle sue varie forme, la libertà fin anche di coltivare pratiche religiose. I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure contentive del contagio sono stati quelli della massima precauzione, ma contestualmente anche della adeguatezza, della proporzionalità dell'intervento rispetto all'obiettivo perseguito. E questa è la ragione della gradualità delle misure adottate che sono diventate restrittive via via che la diffusività, la gravità dell'epidemia si sono manifestate con maggiore severità, sempre sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico. Pochè il nostro ordinamento, e lo vorrei sottolineare, non conosce, a differenza di altri ordinamenti giuridici, un'esplicita disciplina per lo Stato di emergenza, abbiamo dovuto costruire, basandoci pur sempre sulla legislazione vigente, un metodo di azione e di intervento che mai è stato sperimentato prima. Abbiamo ritenuto necessario ricorrere allo strumento dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver posto il suo fondamento giuridico nell'iniziale decreto legge, il numero 6, che ho già menzionato. Abbiamo ravvisato nel DPCM lo strumento giuridico più idoneo, innanzitutto perché agile, flessibile, in grado di adattarsi alla rapida, spesso imprevedibile, evoluzione del contagio e alle sue conseguenze. In secondo luogo, perché abbiamo inteso garantire in questo modo, per questa via, la più uniforme applicazione delle misure. Ogni decreto del Presidente del Consiglio è sempre stato adottato nel coinvolgimento di tutti i ministri, che hanno potuto apportare ciascuno per le rispettive competenze e anche hanno potuto apportare le diverse sensibilità politiche. Abbiamo inoltre assicurato, peraltro espressamente previsto, dall'articolo 3, dal comma primo del decreto legge madre, il decreto legge numero 6, il massimo coinvolgimento delle regioni, sia singolarmente, sia attraverso la conferenza Stato-Regioni. Addirittura, per le misure che incidevano sulla libertà d'impresa, sull'iniziativa economica, sui diritti dei lavoratori, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere le parti sociali, sindacati e associazioni di categoria. Alla fine del mese di febbraio, il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver acquisito dall'Istituto Superiore di Sanità i dati epidemiologici aggiornati, analizzava all'iter epidemiologico del Covid-19 il suo trend di diffusione e dopo l'adozione delle prime forme di contenimento differenziate per zona, forniva ulteriori indicazioni. Il dato rappresentava una situazione di lieve flessione nell'incremento dei casi collocati nelle cosiddette zone rosse, a cui corrispondeva contemporaneamente un aumento dell'incidenza in altre aree, con conseguente allarme per le strutture sanitarie la cui organizzazione territoriale cominciava ad andare in sofferenza. in ragione dell'impatto significativo del ricorso alle terapie intensive e subintensive. In tale contesto, con il diffondersi del virus e nel tentativo di arginare il contagio esponenziale, si moltiplicavano gli interventi emergenziali adottati tanto dai presidenti delle regioni quanto dai sindaci dei singoli comuni. I successivi di PCM ci hanno consentito di graduare le misure, sovente e specificamente circoscritte sul piano territoriale, in modo da renderle proporzionate e adeguate, sempre sulla bassa delle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, rispetto all'obiettivo del contenimento del contagio e della mitigazione del rischio epidemiologico. In particolare, con il DPCM dell'11 marzo abbiamo disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, quelle ritenute non essenziali, e abbiamo anche previsto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione del vendita di generi alimentari di prima necessità dei servizi di ristorazione dei servizi alla persona. Ricordo anche un passaggio particolarmente significativo che rivendico come un segnale da parte del Governo di massima attenzione al mondo del lavoro. La firma è avvenuta il 14 marzo dopo 12 ore di intenso lavoro e confronto con i sindacati e le associazioni datoriali di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus nei luoghi di lavoro nel presupposto che la prosecuzione dell'attività lavorativa possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione. Infine siamo all'ultimo di PCM del 22 marzo con cui sono state ulteriormente integrate le misure di contenimento del contagio prevedendo tra l'altro il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati di trasporto da un comune all'altro salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e anche la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle che erogano servizi pubblica utilità nonché servizi pubblici essenziali. Quest'ultima misura in particolare adottata all'estito di un confronto con le associazioni di categoria e i sindacati si è rivelata e storia anche cronaca che è stata riportata sui giornali di complessa elaborazione dal momento che la selezione come potete immaginare delle filiere essenziali in ragione della forte integrazione e interconnessione tra le produzioni è risultata davvero molto elaborata e delicata. Nell'evidenziale che tutte le misure adottate sulle quali ho riferito in modo quanto più possibile sintetico si giustificano come riconosciuto anche da giuristi intervenuti nel dibattito pubblico per la straordinarietà l'eccezionalità dell'evento suscettibile di porre in grave immediato pericolo la salute dei cittadini sono consapevole della necessità di un doveroso coinvolgimento del Parlamento che esprime al massimo grado la democraticità del nostro ordinamento. Per tale ragione con il decreto legge adottato ieri dal Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oltre ad aver trasferito in fonte di rango primario tipizzandole le misure di contenimento da adottare per contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus abbiamo anche introdotto una più puntuale procedimentalizzazione nell'adozione del PCM prevedendo tra l'altro l'immediata trasmissione dei provvedimenti emanati ai Presidenti delle Camere oltre all'obbligo del Presidente o di un Ministro o da lui delegato di riferire ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate oltre alle misure contenitive volte ad evitare la diffusione del contagio il Governo si è subito attivato per sostenere il sistema sanitario in sofferenza a seguito dell'incremento esponenziale del numero dei ricoverati con il Ministro Speranza con il Capo della Protezione Civile Borrelli con il Commissario Arcuri che abbiamo nel frattempo nominato e con tutti i Ministri io ne cito solo alcuni per consuetudine di videoconferenze quotidiane ma sono consapevole che sto facendo torto ai Ministri non menzionati menziono il Ministro Boccia il Ministro Di Maio il Ministro Guerini abbiamo tutti insieme e stiamo lavorando incessantemente per superare queste difficoltà l'evoluzione dell'epidemia ha indotto il Governo a individuare ulteriori specifiche misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale con riguardo alle risorse umane strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie tramite il Decreto Legge numero 14 del 2020 fra le norme proposte dal Decreto ricordo le misure straordinarie per l'assunzione degli specializzanti in medicina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario su tutto il territorio nazionale nonché l'assunzione a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie dei medici e degli specializzanti nonché l'aumento del monteore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna è stato avviato in parallelo l'acquisto di strumentazione specialistica consistente soprattutto in macchine e altri dispositivi per la ventilazione invasiva e non invasiva e l'acquisizione di personale sanitario aggiuntivo da utilizzare nelle aree più interessate mentre nel resto del Paese prosegue un'attività di preparazione per riuscire da una parte a rallentare l'onda del contagio e ridurre i suoi picchi al fine di assorbire l'impatto dei servizi sanitari e dall'altra parte per gestire i casi in modo efficace in strutture consone e adeguate per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medicali desidero sottolineare che la produzione è dislocata prevalentemente fuori dal territorio nazionale pertanto soprattutto nella prima fase si è riscontrata una notevole difficoltà nel loro reperimento è un'emergenza mondiale quindi il mercato in questo momento saturo la diffusione dell'epidemia a livello globale ha comportato infatti anche una lievitazione dei prezzi e anche distorsioni del mercato a ciò si deve aggiungere il blocco delle esportazioni che hanno adottato molti paesi produttori e di transito inoltre a dispetto di ogni normale procedura si è dovuta riscontrare la criticità legata alle necessità di dover pagare in anticipo la merce anche a fronte il grande rischio di doversi avvalere di intermediari poco trasparenti e come è capitato di intercettare propensi anche a truffe internazionali le terapie intensive in Italia per effetto di questo sforzo continuo e incessante sono passate in pochi giorni da 5.343 a 8.370 con un incremento di 63,8% mentre i posti letto in pneumologie e malattie infettive sono passati da 6.525 a 26.169 oltre 4 volte di più 59 pazienti in terapia intensiva sono stati trasferiti dalla Lombardia in altre regioni italiane l'abbiamo fatto potenziando un sistema già esistente un protocollo interregionale già esistente a livello di protezione civile si chiama CROSS l'abbiamo reso vincolante e quindi obbligatoria anche per quanto riguarda le risposte delle altre regioni abbiamo riconvertito 78 ospedali in covid hospital con una procedura di selezione delle 8.000 domande pervenute avevamo lanciato una call per 300 nuovi medici pensate 8.000 domande in 72 ore saranno inviati nei prossimi giorni ma mi risulta che nel momento in cui vi parlo già un primo gruppo sono arrivati a destinazione nuovi medici negli ospedali in difficoltà contestualmente con una nuova ordinanza nelle prossime ore trasferiremo su base volontaria 500 infermieri nelle zone con il più alto numero di malati covid-19 sono convinto che anche in questo caso l'Italia saprà rispondere con un numero un moltiplicatore incredibile dei 500 che richiediamo questi nuovi medici e infermieri potranno offrire il loro contributo nelle aree più colpite con particolare riguardo ai comuni di Bergamo Brescia Cremona Piacenza ma ci sono tanti altri anche come pure all'ospedale da campo dell'associazione nazionale alpini che a breve sarà operativo a Bergamo il governo è pienamente consapevole che la pandemia del covid-19 non pone sott'alto una complessa sfida sul piano sanitario ma richiede anche una significativa risposta economica da parte delle istituzioni nazionali ma anche europee e internazionali per questa ragione sin da quando è emerso il primo focolario di coronavirus il governo ha adottato provvedimenti economici volti a tutelare i lavoratori e le imprese coinvolte nell'emergenza con il decreto legge numero 6 del 2020 abbiamo stanziato 20 milioni di euro per il 2020 a valere sul fondo per le emergenze nazionali in favore del dipartimento della protezione civile a questo provvedimento poi è seguito il decreto del ministro dell'economia e finanze del 24 febbraio che ha disposto la sospensione di versamenti ad impimenti tributari nonché del versamento delle ritenute da conto a carico dei residenti nelle prime due aree interessate allo sviluppo di un focolaio poi c'è stato il decreto legge numero 9 del 2020 con cui il governo ha adottato ulteriori misure di proroga degli addempimenti a carico dei cittadini e delle imprese nelle zone maggiormente interessate all'epidemia nonché misure in materia di sviluppo economico istituzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del paese la consapevolezza delle pesanti ripercussioni socio-economiche derivanti dal covid-19 ha determinato l'esigenza di un piano di emergenza economica ben più incisivo e complessivo per questa ragione sapete il governo ha presentato senza l'articolo 6 della legge 243 del 2012 al Parlamento qui al Parlamento una relazione con richiesta di essere autorizzato allo scostamento temporaneo del saldo strutturale di bilancio all'obiettivo programmatico di medio termine che era stato in precedenza stabilito questa relazione preceduta da una relazione ovviamente alla Commissione europea è stata elaborata al fine di reperire risorse per un pacchetto di misure di sostegno dell'economia e la relazione integrativa ha portato il complessivo incremento degli stanziamenti richiesti a 25 miliardi per il 2020 in termini di saldo netto da finanziare ovvero un incremento di 20 miliardi è cosa nota dell'indebitamento netto programmato per il 2020 la Commissione europea ha confermato con l'ETA che le misure pubbliche adottate una tantum in relazione all'emergenza epidemiologica sono da considerarsi escluse al calcolo del saldo e bilancio strutturale e dalla valutazione rispetto alle regole di bilancio vigenti poi ovviamente successivamente è stata anche dichiarata la sospensione del patto di stabilità e crescita in forza di questo maggior ricorso all'indebitamento il governo ha emanato il decreto 18 decreto legge 18 del 2020 e abbiamo con quel decreto individuato quattro ambiti di intervento per un'azione urgente di sostegno dell'economia potenziamento del sistema sanitario protezione del lavoro ed erediti sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie sospensione delle scadenze tributarie dei contributi previdenziali e assistenziali per potenziare le risorse a disposizione del nostro sistema sanitario che abbiamo stanziato nuove risorse per 3,2 miliardi queste risorse le stiamo utilizzando per gli interventi di reclutamento e di gestione del personale medico sanitario inoltre il decreto dispone dello stanziamento di risorse per gli straordinari personale sanitario che viene incrementato di 250 milioni di euro per il 2020 l'incremento di 320 unità del personale medico-infermieristico militare nonché la possibilità per l'INAIR di assumere a tempo determinato 200 medici specialistici e 100 infermieri per far fronte poi alle esigenze di sorveglianza epidemiologica viene aumentato anche lo stanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità il decreto poi stanzia anche 11 miliardi di euro in favore degli ammortizzatori sociali della preservazione dei posti di lavoro e di misure specifiche per determinate categorie di lavoratori la cassa integrazione e guadagni in deroga viene stesa dal decreto all'intero territorio nazionale per i dipendenti di tutti i settori produttivi per una durata massima di nove settimane abbiamo prestato anche attenzione alle categorie di lavoro una prima attenzione alle categorie di lavoratori autonomi e atipici il decreto è intervenuto anche in materia di licenziamenti prevedendone la sospensione misure specifiche sono rivolte anche a categorie particolari di lavoratori che svolgono attività essenziali e non sono coperti dalla sospensione delle attività i contraccolpi economici dell'emergenza sanitaria naturalmente riguardano da vicino il mondo delle imprese è imperativo perciò garantire il massimo grado possibile di liquidità alle imprese e il governo ha già predisposto delle prime prime misure significative che permettono di attivare complessivamente 350 miliardi di euro di finanziamento a beneficio del mondo produttivo queste misure si articolano in quattro direzioni principali innanzitutto abbiamo disposto una moratoria sui prestiti fino al 30 settembre 2020 a beneficio di tutto il sistema delle piccole e medie imprese abbiamo poi potenziato con 1,5 miliardi di euro il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese affinché possa intervenire in maniera più capillare ed erogare garanzie per oltre 100 miliardi complessivi in favore dei lavoratori autonomi che abbiano subito una perdita ad oltre un terzo del loro fatturato medio e l'esteso l'accesso al cosiddetto fondo Gasparrini che per 12 mesi garantisce la sospensione delle rate e il pagamento da parte dello Stato di una parte degli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa a favore delle aziende di maggiori dimensioni abbiamo previsto una garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da casa depositi e prestiti un'esposizione diretta alle medie e grandi imprese colpite dall'emergenza sono previste anche forme di incentivo alle imprese bancarie industriali finalizzati alla cessione di crediti incagliati o deteriorati attraverso la conversione delle loro attività fiscali in crediti d'imposta il decreto dedica un capitolo importante alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi estendendo la portata degli interventi disposti dei provvedimenti precedenti al fine di sostenere il sistema paese in questa delicata fase abbiamo poi costituito un fondo per l'internazionalizzazione il sistema economico e il sostegno delle esportazioni italiane infine per supportare il lavoro nell'ambito dell'emergenza il decreto dispone misure per la funzionalità delle forze di polizia delle forze armate del corpo nazionale dei vigili del fuoco non da ultimo abbiamo previsto alcuni interventi in favore del sistema scolastico e universitario un capitale prezioso su cui dobbiamo investire con ancora maggiore convinzione in nome del futuro del paese aiutandolo soprattutto a superare questa fase di contenimento dell'epidemia l'impegno del governo nel sostegno all'economia italiana naturalmente trova nel decreto d'Italia soltanto un primo passo di carattere emergenziale ci rendiamo conto che l'intervento si è qui effettuato che eppure è stato significativo assolutamente non trascurabile sia sul fronte della liquidità della protezione sociale del sostegno al reddito per le imprese famiglie e lavoratori in particolare autonomi non è sufficiente e per questo che stiamo in queste ore stiamo lavorando per incrementare il sostegno alla liquidità di cui il paese ha tanto bisogno al credito che già dicevo come l'ho già detto l'ho ricordato prima porta a mobilitare attualmente con il decreto già adottato cura Italia circa 350 miliardi di euro con il nuovo intervento normativo che in corso di elaborazione confidiamo di pervenire a uno strumento complessivo altrettanto significativo rispetto a quanto si è qui operato non sono in condizione in questo momento di dare delle cifre esatte ma sicuramente sarà ripeto uno strumento complessivo altrettanto significativo e interverremo anche con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo di non minore importo anche qui consentitemi ovviamente di poter continuare a lavorare con tutti i ministri per definire bene le misure e l'esatto impatto economico di un minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati con il primo decreto per questa ragione quindi il governo sta assolutamente valutando tutte le iniziative per assicurare alle famiglie alle imprese e ai lavoratori la liquidità necessaria per affrontare e superare questo momento di grande ristrettezza peraltro i prossimi interventi dovranno attenzione non lo dobbiamo affatto trascurare dobbiamo già lavorare oggi per premurarci quello che è il rilancio di domani dobbiamo anche lavorare per semplificare il nostro sistema la nostra pubblica amministrazione la nostra burocrazia per dare impulso agli investimenti pubblici e privati una volta che il paese potrà uscire dall'emergenza e potrà riprendere a correre sarà cruciale quindi da questo punto di vista superare le rigidità strutturali che hanno impedito di dispiegare tutto il potenziale di crescita dell'Italia ad esempio nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche è fondamentale garantire e già in questa fase che il sistema paese sia sempre più preparato a sostenere situazioni di emergenza qualunque ne sia la causa scatenante considerate che il nostro sistema sanitario nazionale sistema della ricerca in campo scientifico clinico farmacologico sono due risorse di valore inestimabile che dobbiamo rafforzare che dobbiamo proteggere allo stesso tempo dobbiamo salvaguardare la capacità finanziaria dei nostri enti locali a partire dai comuni che è il volto dello Stato più prossimo ai cittadini affinché possano erogare servizi pubblici di qualità e assicurare reti di protezione sociale solide resilienti queste settimane di lotta contro la diffusione del coronavirus ci hanno mostrato l'importanza anche di preservare alcune filiere produttive di cruciale importanza per la salute e la sicurezza nazionali come ad esempio quelle legate ai ventilatori sanitari ai dispositivi di protezione individuale un primo passo importante nella direzione della ricostituzione di filiere nazionali è stato compiuto con i nuovi incentivi previsti dal decreto cura Italia per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale al momento sono disponibili 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori mascherine occhiali camici tutte di sicurezza si tratta di risorse che rientrando nel regime degli aiuti di Stato sono state autorizzate devo dire sottolinearlo in meno di 48 ore dalla commissione europea dopo l'immediata notifica della misura in sede comunitaria da parte del ministero dello sviluppo economico l'emergenza ci mostra anche l'importanza di tutelare le nostre industrie di interesse strategico alla luce di un'ampia serie di rischi epidemiologici ambientali sismici ma anche informatici e geopolitici non possiamo trascurare nulla i più preziosi asset del paese vanno protetti con ogni mezzo saremo in grado di lavorare in questa direzione a partire dal prossimo provvedimento normativo che stiamo predisponendo per aprile per il rilancio economico dell'Italia poi restano di assoluta centralità gli investimenti pubblici e privati nella sostenibilità ambientale l'impulso sempre maggiore alla trasformazione digitale del paese l'esperienza delle ultime tre settimane ci ha dimostrato che è necessaria e possibile una vera e propria trasformazione in chiave digitale della scuola dell'università e del lavoro ne dobbiamo approfittare dobbiamo cercare di volgere in opportunità questa prova durissima che il paese sta attraversando dobbiamo concentrare tutte le migliori energie del paese e le risorse disponibili sul potenziamento della connettività della formazione digitale dell'innovazione tecnologica assicurando a tutti i cittadini la parità di accesso agli strumenti informatici per attuare efficacemente queste priorità di intervento in un quadro progettuale di medio e lungo periodo il nostro paese avrà bisogno di un assetto normativo semplificato e quanto più favorevole possibile agli investimenti di risorse pubbliche significative ma voi sapete che in parte per buona parte sono già stanziate per continuare a sostenere l'economia nella fase di uscita e di ripresa ovviamente del ciclo economico più produttivo è cruciale in tal senso la decisione anche in questa prospettiva della Banca Centrale Europea dello scorso 18 marzo che ha portato come sapete a 750 miliardi l'entità complessiva del programma di acquisto di titoli volto a contrastare i rischi economici della pandemia del coronavirus includendo anche la possibilità di rivisitare gli attuali limiti autoimposti dove fosse necessario la recessione che investirà con ogni probabilità l'intero continente europeo assume i caratteri di uno shock esterno e simmetrico la risposta della politica monetaria della politica di bilancio dell'eurozona perciò non può non deve essere messa a repentaglio da un rischio di frammentazione dei mercati finanziari soprattutto nell'ambito dei titoli del debito pubblico parimenti e di assoluta importanza la proposta della Commissione europea volta ad attivare la causa di salvaguardia generale del patto di stabilità e di crescita una volta approvata dal Consiglio questa deliberazione consentirà agli Stati membri quindi anche all'Italia di discostarsi ulteriormente dagli obblighi di bilancio che si applicherebbero in forza del quadro di bilancio europeo tale causa sarà essenziale per poter procedere con ulteriori stanziamenti di risorse quelli che ho già in parte anticipato che si renderanno necessarie a partire dalla definizione del nuovo prossimo provvedimento di sostegno economico tuttavia l'impatto finanziario e socio-economico della pandemia sarà tale da richiedere alla governance economica dell'Eurozona un salto di qualità che sia all'altezza della sfida che stiamo attraversando che non sta attraversando solo l'Italia che sta attraversando l'Europa intera la nostra unione monetaria potrà uscire vincitrice dalla lotta contro il coronavirus soltanto se le sue istituzioni saranno rafforzate nel segno della solidarietà e dell'unità in queste settimane di emergenza prima in Italia e poi nel resto dell'Unione Europea ho promosso con forza nei confronti delle istituzioni europee e degli altri Stati membri un'azione coordinata con gli altri ministri di governo con gli altri leader una risposta europea immediata all'altezza della posta in gioco di ordine sia sanitario sia economico ma anche sociale ad un'emergenza straordinaria è indispensabile rispondere questo è il segnale forte che ho trasmesso con misure e azioni straordinarie rassicurando i cittadini europei e anche i mercati finanziari che l'Europa unita intende fare e inizia a fare tutto ciò che è necessario risposte anche corrette risposte anche unitari ma tardive saranno del tutto inutili i bilanci dei Paesi membri dovranno continuare a mobilitare quindi risorse pubbliche nel corso del 2020 e soltanto un'azione politica di sinergia potrà permettere all'Eurozona di tornare su un sentiero di crescita sostenuta e quindi convinzione del governo che nessuno ad oggi nessuno degli strumenti tradizionalmente disponibili che sono stati evidentemente progettati durante precedenti episodi di crisi che però avevano un'altra natura ecco nessuno di questi strumenti possa costituire un veicolo idoneo ad attuare quella coraggiosa risposta economica alla pandemia di cui tutti i cittadini avvertono la necessità per questa ragione l'Italia sta lavorando e continuerà a lavorare alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona che possano finanziare gli sforzi messi in campo dai governi e costruire un'adeguata linea di difesa ho sostenuto con convinzione la necessità di risposte tempestie ed efficaci in ambito europeo e in questo spirito portato avanti nelle ultime ore un'iniziativa che è stata condivisa presto subito devo dire la risposta è stata immediata dei capi di Stato e di Governo di altri otto Stati membri dell'Unione Belgio Francia Grecia Irlanda Lussemburgo Portogallo Slovenia Spagna l'obiettivo di questa lettera che stamane abbiamo recapitato al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è quello di ribadire che l'epidemia causata dal coronavirus sta realizzando sta provocando uno shock senza precedenti uno tsunami che può essere affrontato esclusivamente facendo ricorso a misure straordinarie a misure eccezionali queste misure devono prioritariamente essere dirette a contenere al massimo la diffusione la diffusione del virus a rafforzare i sistemi sanitari dei singoli Stati europei nessun Paese peraltro a men che meno l'Italia che in prima linea può accettare nel momento in cui sta facendo uno sforzo poderoso sacrifici enormi per contrastare il contagio la diffusione del virus che altri Paesi non raccolgano questa soglia di attenzione massima di precauzione massima immaginate a quale iattura potremmo rimanere esposti in caso di un contagio di ritorno dove la soglia di altri Paesi nella linea di reazione sul piano sanitario non fosse rigorosa e adeguata quindi queste devono essere le misure che adotteremo in grado di salvaguardare la produzione la distribuzione di beni i servizi vitali all'interno dell'Unione Europea e devono essere in grado di contrastare efficacemente nel breve ma anche nel lungo periodo gli effetti negativi di questa crisi sull'economia del nostro continente come dimostrano le citate misure e le azioni europee fino ad adottate è indispensabile che venga ascoltato all'Europa l'appello a questa azione coordinata per il contenimento del contagio senza una sincronizzazione un'estensione e un coordinamento effettivi queste misure non costituiranno un'argine efficace questo quindi vale e questa linea noi la porteremo a livello di G7 c'è già stata una videoconferenza di G7 ma anche a livello di G20 quindi lavoreremo per ottenere una risposta chiara solida vigorosa efficace coordinata e tempestiva dall'Europa ma continueremo nel nostro ordinamento interno a operare con la massima determinazione col massimo coraggio e con la massima fiducia che restando uniti ne usciremo presto grazie 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 grazie